Buonasera e bentrovati a Linea Mondo, oggi parliamo di Siria dove la repressione del regime siriano ha fatto strage di bambini poco distante da Oms, i soldati di Damasco hanno ucciso 92 persone a Ula tra le quali 32 bambini secondo il capo della missione ONU. La conferma è arrivata attraverso un video diffuso in rete dagli attivisti dell'opposizione, davanti alle scene della strada il segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon che aveva parlato appunto di piccoli progressi sulla situazione siriana ha ammesso che la violenza invece continua inesorabilmente. E noi parliamo oggi di tutto questo con il professor Stefano Silvestri che è presidente dell'OIA, buonasera e con Feisal Al-Muamad che è responsabile delle relazioni internazionali della corrente popolare libera, buonasera. Buonasera. Allora la corrente popolare libera lo spieghiamo, è uno dei movimenti di opposizione. Uno dei diversi, purtroppo siamo tanti, è diversi fra di noi, dei movimenti di opposizione al regime siriano. Allora, il massacro di Hula appunto sottolinea quanto vacilli il piano di pace, vediamo. Il Consiglio Nazionale Siriano chiede un'azione militare per proteggere i civili dopo l'attacco di sabato il più violento dall'inizio della tregua. A Hula sono morte più di 92 persone tra cui almeno 32 bambini. Un massacro confermato dagli osservatori ONU e che mette a rischio i tentativi di riportare la pace nel paese. Il pericolo, avverte il capo della missione, è la guerra civile. La morte di 32 bambini innocenti, tante donne e tanti uomini, ma soprattutto i bambini, è un attacco inaccettabile al futuro e alle aspirazioni del popolo siriano. Chiunque abbia iniziato, chiunque abbia risposto, chiunque vi abbia contribuito. L'opposizione accusa della strage e i miliziani fedeli al regime. Damasco parla invece di azione terrorista. Gli osservatori esortano le parti a mettere fine alle violenze e il governo siriano a non usare armi pesanti. All'inizio della settimana la visita di Kofi Annan per rilanciare il vacillante piano di pace. Professore Silvestro, ovviamente una strage di bambini colpisce tantissimo l'opinione pubblica e quindi riesce a raccogliere anche l'attenzione di tanta 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 gente. Ovviamente sappiamo che però questo piano di pace di Kofi Annan non è mai realmente partito. In realtà aumentano le critiche di coloro che dicono che è una maniera di prendere tempo e che in realtà dà più spazio al regime di quanto non gliene levi. Prendere tempo è una necessità della politica internazionale dovuta essenzialmente all'opposizione della Cina, ma soprattutto della Russia in consiglio di sicurezza per decisioni più operative, per interventi eccetera. Il problema è che si può prendere tempo fino a un certo punto, nel senso che se continua la situazione attuale mi pare che sia inevitabile arrivare a una forma di scontro più articolato. Una guerra civile? Una guerra civile, diciamo, grossi elementi della guerra civile già ci sono, ma arrivare a uno scontro effettivo anche di formazioni militari, anche se non è che le opposizioni abbiano granché come formazioni militari, ma qualche cosa c'è. E quindi arrivare a operazioni ancora più sanguinose sostanzialmente. L'annuncio del regime di un loro fatto di essere pronti ad usare armi pesanti è da questo punto di vista preoccupante, perché evidentemente le armi pesanti non sono molto selettive. Se si spara con dei cannoni pesanti da distanza sopra una città si uccide in maniera indiscriminata, si usano i carri armati eccetera. insomma, quindi le armi pesanti. Quindi siamo arrivati al punto in cui io credo siamo molto vicini a dover prendere una qualche decisione più operativa. Non mi pare che la comunità internazionale sia molto pronta a questo, però penso che stia diventando abbastanza inevitabile. non c'è un campione. Nel caso della Libia c'era un campione, nel senso che la Francia aveva assunto questo ruolo di pungolo e aveva convinto gli altri, poi alleandosi con la Gran Bretagna. Nel caso della Siria ci si aspetterebbe forse da parte della Turchia, che però ha altre preoccupazioni anche. Quindi manca un po' questa funzione di traino di qualcuno che si faccia avvocato di una simile operazione. Allora, il Consiglio nazionale siriano sta puntando il dito sulle responsabilità dell'ONU, dice che appunto bisogna fare qualcosa, secondo lei, questo qualcosa dove va individuato? In un avvocato, come diceva il professor Silvestri, che tipo di iniziativa? Intanto io concordo con il professor Silvestri sul fatto che questa missione di Kofi Annan non avrà successo. sostanzialmente questo. Non avrà successo perché il primo punto essenziale in questa iniziativa è quello di ritirare i carri armati e i cannoni delle città e questo non è mai avvenuto. Mi viene da sorridere la stridezza naturalmente quando si parla di armi pesanti, come se le armi meno pesanti non uccidessero. In realtà in Siria tutti i giorni ci sono stragi, non ci sono stragi in una sola località di questa proporzione, ma i bambini muoiono tutti i giorni, gli anziani e le donne che vengono violentate. Guardate che noi sappiamo, e c'ho vicino a me l'esperto, sappiamo che nelle guerre ci sono violenze contro le donne, ma quello che sta accadendo in Siria è singolare, non solo per la quantità, perché ci può stare o non ci può stare è un elemento di discussione, ma la metodica è usata nel violentare le donne e restituirli a pezzi. Questa è una cosa che nessuno di noi riesce, opposizione o non opposizione, adesso non voglio entrare nella dialettica del pro e del contro, non si capisce che significato ha, è qualcosa di nuovo. Noi sappiamo noi siriani che in Siria ci sono scuole per le torture, ma arrivare tanto era assolutamente fuori dalle nostre portate di pensare. Cosa può fare l'Organizzazione Mondiale delle Nazioni Unite, cosa possono fare le associazioni di diritto umano, cosa possono fare le comunità internazionali? Giustamente come ha detto il professore, non c'è il campione, non ci sono. Sarkozy pensava che facendo la guerra contro la Libia potessi vincere l'elezione e questo è andato male, ma noi non vogliamo che sulla questione siriana si vincono o si perdi un'elezione. La questione della Turchia è una situazione complessa quanto la situazione siriana per la presenza di forze geopolitiche regionale e internazionale con interessi assolutamente incredibilmente fra di loro commesse, interconnesse, grazie prof, come sembra prof, quindi devo indicare all'allevo. Io volevo dire che il regime siriano sta facendo una guerra per procura contro la sua popolazione. Fin quando questa procura continuerà? Fin quando noi dobbiamo pagare la storia dell'Iran con l'Atomica? Fin quando noi dobbiamo pagare alcune altre situazioni turchi con l'Iran? La Russia? Fin quando? E' una domanda che lo pongo a tutti. Allora, i siriani finiranno per richiedere l'intervento militare esterno? È quello che noi come opposizione rifiutiamo. Noi vogliamo aiuto, ma quello che mi interessa, io come cittadino siriano, è la protezione dei civili. Questo che mi interessa. Dopodiché, siccome io non sono l'esperto militare o stratega come il professor Silvestri, sono loro che devono trovare il metodo, non sono io. Io vorrei uscire a manifestare, avere la mia dignità, la mia libertà senza di essere sparato, che poi poca differenza sia strata di un cannone, carro armato o una pistola. Certo. E su Ula, Damasco nega ogni responsabilità. Vediamo. Il regime di Damasco nega ogni responsabilità nel massacro di Ula. I ribelli dicono il piano di pace è archiviato, bisogna passare alle armi. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si riunisce d'urgenza con Barack Obama, che propone una transizione sul modello iemenita. Questi gli ultimi sviluppi della guerra civile siriana all'indomani della strage che ha fatto 116 vittime, tra le quali almeno 32 bambini, e alla vigilia della visita dell'inviato speciale di ONU e Legaraba, Kofi Annan. Neghiamo fermamente la responsabilità delle forze governative in questo massacro e altrettanto fermamente condanniamo questa strage terroristica che mira in maniera chiara e criminale a colpire la popolazione siriana, donne, bambini e anziani. L'opposizione al regime non ferma la sua protesta. Se l'ONU non prenderà in considerazione l'azione militare, dice il capo del Consiglio nazionale siriano, il popolo darà il via a una guerra di liberazione. Allora, professor Silvestri, Barack Obama propone una transizione sul modello iemenita, è possibile, nel modello iemenita però abbiamo avuto la mediazione pesante dell'Arabia Saudita che è una sorta di, non dico che lo Yemen sia un protettorato saudita, non lo è, anzi al contrario, però l'Arabia Saudita ha un forte peso politico sullo Yemen. Diciamo che ha un peso politico che in qualche maniera è analogo a quello che potrebbe avere l'Iran sul regime degli Assad, ma non credo che l'Iran in questo momento non sembra convinto, disponibile ad abbandonare, quindi a svolgere questo ruolo e soprattutto la comunità internazionale non mi sembra pronta a chiedere all'Iran di svolgere questo ruolo, anche se ci sono state nel dialogo che è in corso tra Iran e gruppo di contatto per l'Iran sulle questioni nucleari, da quello che si è capito le questioni regionali sono un'euto e fuori e c'è stata della discussione su questi punti, però mentre l'Iran vorrebbe discutere proprio di questo, probabilmente per avere qualcosa di concreto in cambio, i negoziatori occidentali, i negoziatori del gruppo di contatto non erano in realtà autorizzati, cioè non avevano in realtà un preciso piano, per cui adesso bisognerebbe vedere se alla prossima tornata negoziale di Mosca, che però è fra due settimane, per cui passa parecchio tempo, forse ci potrebbe essere una qualche intesa che potrebbe lasciare spazio per un ruolo iraniano simile a quello saudita per favorire una transizione, cioè se gli iraniani abbandonano pubblicamente Assad, Assad può evidentemente resistere, però è ancora più isolato di oggi e quindi è in una situazione ancora più delicata e soprattutto bisogna vedere quanto coloro che ancora oggi lo appoggiano all'interno del regime, pensano che comunque sia meglio per loro che il regime di Assad rimanga, non facciano altri calcoli e non finiscano per abbandonarlo. Questo è molto delicato, è una situazione in cui bisognerebbe sapere poco meno che ora per ora, minuto per minuto, che cosa succede, a chi e come, perché sono cose che non è possibile veramente discutere in dettaglio senza una conoscenza molto approfondita della situazione interna siriana. Io credo che però nell'attesa non ci siano molti spazi per una soluzione di tipo iemenita, perché appunto manca in questo caso il garante per gli Assad, che si mette in mezzo e gli dice guarda io ti salvo la faccia in qualche maniera e ti salvo anche la vita. Perché poi per la famiglia di Assad, per gli Allawi, poi farebbero una fine tremendissima. Gli Allawi sono una delicatissima situazione, gli Allawi sono una tribù, praticamente insieme a una setta, una setta che è stata riconosciuta come musulmana un po' per il rotto della cuffia e che quindi, sì, sì, teoricamente è vicino agli sciiti ma in maniera molto eretica. Per cui non è bene. E quindi sono in una situazione molto delicata. Lo sono stati anche nel passato, si sono ritirati nelle montagne e sono vissuti lì. Però insomma oggi la situazione è più complicata. Quindi è facile che gli Allawi ti vogliono. Se posso commentare, io lo posso dire, posso dissentire su alcuni punti. Allora, intanto gli Allawi sono dei siriani e non sono venuti da fuori, sono dei siriani e sono dal punto di vista religioso, sono a costo la ceita. Però, credetemi, non hanno nessuna importanza questo. E Allawi ci sono in carcere, Allawi sono con noi a combattere, a morire tutti i giorni, sono nelle varie forme dell'opposizione siriana. Io sono in contatto con delle persone, come ci sono altri, li conosco e sono lontano da qui, magari non posso comunicare direttamente con loro. Questo governo è errato, assolutamente errato, definirlo come espressione di un'amiranza Allawi. Questa è una famiglia, è un clan d'Assad che è venuto fuori e che la prima vittima, la prima in assoluto vittima di questo clan sono state le Allawiti. Perché in realtà apparentemente governa a nome loro, ma solo apparentemente. questo non è un governo che rappresenta la minoranza Allawiti, è un governo che ha creato una sua minoranza, in cui ci sono tutti, tutti le 26, perché noi abbiamo un numero 26 magico, in cui si mischiano etnie e religioni, tutte le 26 sono rappresentate. e ha creato questo dall'anno 60 e non è una novità. Noi siriani lo sappiamo benissimo, le Allawiti, ci sono delle zone della montagna a cui ho fatto riferimento il professor Silvestri, che sono assolutamente dimenticate del Dio e degli uomini. Non c'è assolutamente nessun collegamento in assoluto fra questi regimi e questa gente. assolutamente, è errato andare a pensare che oddio, povera Allawiti, cosa succede? Allawiti sono persone che combattono questi regimi, sono vittime di questi regimi come sono tutti gli altri. Questo è un regime di una famiglia, non è di uno Stato, è solo di una famiglia che governa uno Stato e che governa da solo l'economia, la politica e ha affermato negli ultimi 40 anni, non solo la politica in Siria, ha affermato i cervelli in Siria. Noi non possiamo pensare, in Siria è vietato pensare, il parlare ovviamente se finisce in carcere, ma pensare è rischioso perché magari il mio pensiero lo può vedere e interpretare qualcun altro. Non è possibile, non è possibile che la Comunità internazionale va a proporre dopo 15.000 martiri soluzioni di tipo yaminita, che giustamente ha detto lui, che garantisce per le Assad? Garantiri cosa? In ogni caso io ritorno sul fatto che questo è un gruppo di persone che fa la guerra per procura, non le fa per gli siriani, non le fa neanche per sé, è per procura, per gli interessi di altri. E gli altri già ci sono, ma noi continuiamo come opposizione, tutte le opposizioni, continuiamo a rifiutare intervento militare esterno e rifiutiamo qualsiasi atto che potrebbe dividere la Siria, popolo o terra, perché noi siamo un popolo unito comunque. E nella storia della Siria, e uno come il professor Silvestri la sa meglio di me, questo paese è sempre stato formato da etnie diverse, non c'è mai stata una guerra civile. E a tali proposito vorrei sottolineare l'idea che la guerra civile oggi non c'è, ma se non vogliamo parlarne, allora dico e affermo e raffermo che più possibilità o più età ha questo regime e più possibilità abbiamo di trovarci di fronte alla guerra civile. Quindi, rivolgendomi a tutti gli uomini di una volontà al mondo, della gente che capisce la politica e le strategie, come il professor Silvestri, di dire, guardate, se noi andiamo da qua a sei mesi abbiamo 60 volte di più la possibilità di avere una guerra civile. Se oggi questo regime, e questo regime se ne andrà per forza, non può rimanere, non si può tornare dietro, e assolutamente è impossibile tornare dietro fra l'altro, perché se no saremo sterminati tutti come la strage che avete visto e che ha scosso le vostre conoscenze per una questione di quantità, perché hanno il coraggio di rifiutare, professore, che sono state le bande armate, le bande armate hanno i cannoni e hanno i carri armati da sparare contro i bambini. Questi genitori che fanno la lotta contro questo regime vanno a legare i loro figli e poi le sparano con le cannonate. è impossibile, è qualcosa, cioè non possono pensare e parlare con il mondo come fossero una massa di cretini e loro sono geni, intelligenti. Non è possibile. Allora, intanto per Regno Unito e Russia il piano di Annan è l'unica soluzione, però vediamo in che termini. Regno Unito e Russia chiedono la fine delle violenze in Siria e appoggiano il piano Annan, ma con toni diversi. A Mosca l'incontro tra i ministri degli esteri dei due paesi, mentre l'inviato speciale, Kofi Annan, è arrivato a Damasco per discutere con Bashar al-Assad e mentre la comunità internazionale sembra impotente di fronte a violenze senza fine. Il duro commento di William Haig. Fa parte di uno schema comportamentale del regime di Assad compiere atti efferati e poi tentare di addossare la colpa ad altri. Per questo dobbiamo essere continuamente vigili, sapendo che è difficile determinare cosa succede in ogni singolo caso. Sergei Lavrov sostiene che entrambe le parti siano responsabili delle violenze e chiede all'Occidente di smetterla di reclamare un cambiamento politico in Siria. E' molto importante che tutti facciano la loro parte, ossia che applichino il piano Annan e non si punti a cambiare il regime. Dobbiamo fissare delle priorità. Cosa dobbiamo fare? Raggiungere obiettivi politici o salvare vite umane? E' questa la domanda. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha condannato le autorità siriane per la strage di venerdì a Hula. Sono morte almeno 108 persone, tra cui una cinquantina di bambini, secondo gli osservatori delle Nazioni Unite. La vicenda più grave in 14 mesi di scontri è avvenuta nonostante il cessate e il fuoco in vigore da sei settimane, continuamente violato. Sul massacro per ora indagano solo l'esercito e la giustizia siriani. Professor Silvestri, che pensa di queste dichiarazioni che abbiamo appena ascoltato? Confermano quello che dicevamo. Cioè la Russia non è pronta. Però il piano Annan... Il piano Annan potrebbe anche andare bene se il regime siriano avesse intenzione di descalare. Ma per il momento questa descalation non c'è. Parlare delle violenze da ambedue le parti, certamente ci saranno violenze da ambedue le parti, ma la scala è diversa. E' abbastanza evidente che da una parte c'è uno Stato organizzato, un esercito delle vizie, dall'altra parte ci può essere qualche individuo e eventualmente ci possono essere anche dei gruppi terroristi, ma un gruppo terrorista di per sé non è che... Anche se cerca di approfittare della situazione, non è irresponsabile della situazione. Sì, cerca di approfittare, però la situazione è creata dall'esistenza di un regime che si oppone a ogni evoluzione, non dal gruppo terrorista. Quindi la situazione è abbastanza paradossale. Diciamo che la Russia ha indurito la sua posizione, per esempio appunto è arrivata a condannare, ha votato per la condanna del regime in questo ultimo massacro, però ancora non accetta l'idea di sponsorizzare il cambiamento di regime. L'idea di una protezione unicamente umanitaria è possibile, però la creazione di corridoi umanitari protetti implica o la collaborazione del governo siriano o un intervento di forza per la protezione di questi corridoi. e un intervento di forza fatto in sicurezza è praticamente un intervento militare contro il governo siriano, perché noi possiamo fare delle aree protette. Sono state fatte in passato, in Iraq per esempio, venne creata un'area protetta del Kurdistan settentrionato, dalla parte settentrionale dell'Iraq, contro Saddam Hussein. e poi nel sud, nel sud funzionò male, nel nord funzionò bene, un po' perché erano diverse le situazioni, ma comunque. Quindi volendo si può cercare di creare una cosa del genere, però è evidente che noi possiamo creare una no fly zone, possiamo creare anche con metodi diversi da quelli libici, se però il governo siriano accetta di non tentare di forzare la mano. Il governo iracheno non cercò di forzare la mano a nord, forzò in parte la mano a sud e in parte ci riuscì. Ed è chiaro che comunque la creazione di safe haven, di zone protette, di per sé non è che risolve la questione politica. Da tempo, diciamo, non è che risolve i problemi del regime, però. quindi io dubito che ci si arriverà. Teoricamente, ripeto, è possibile creare delle aree protette, più ancora che dei corridoi, perché i corridoi implicano una protezione in tutta l'area. Però delle aree protette implicano poi la possibilità di assistere a dei movimenti di popolazione. Quindi delle cose fortemente destabilizzanti. che una città del sud che sia fuori da un'area protetta, che cosa fa? Si emigra nel nord? O viceversa, dico. Secondo lei, quindi, allo stato attuale, diciamo, qual è l'unica via d'uscita da questa situazione? O meglio, la possibilità di un intervento più convinto, diciamo così, di Obama sulla Russia, un pressing degli Stati Uniti sulla Russia, possono fare qualcosa? Possono essere una soluzione? Guardi, lei ha usato il termine un intervento più convinto e probabilmente è tutto lì. La questione della convenzione. Io faccio notare che tutte le occasioni sono buone perché i leader politici dell'Occidente e soprattutto Ramsousen, che è della Nato, dichiarano che noi in Siria non faremo intervento militare. E noi siamo contenti di dire che non vogliono fare intervento militare. come concetto a me sta benissimo. Il fatto è che in Siria noi abbiamo un fenomeno, quello che il professor ha detto ci potrebbe essere anche qualche gruppo terroristico. Faccio notare che il gruppo turistico è il figlio di questo regime che lo usava per fare tutte quelle bombe in Iraq, eccetera, eccetera. Poi adesso ne approfittano della situazione in Siria. Quindi c'è un conflitto nel conflitto. ma questo è uno. Poi ci sono i desertori, quelli che vengono chiamati l'esercito libero. Ora, se ci fossero delle zone protette noi pensiamo che l'esercito libero aumenterà tantissimo. Oggi come oggi, quando io sono un ufficiale o un sotto ufficiale o un semplice militare, sento tutti i giorni le assicurazioni che non ci sarà nessun intervento, che cosa? L'accennato è un modo molto soft il professore alla sua maniera perché se io non ho paura perché dovrei cambiare? E allora stanno le cose come stanno e una situazione di stallo non se ne esce. Fare pressione su questo governo in un modo convinto e convincere la Russia e il suo alleato per altri interessi naturalmente in Iran è possibile. È possibile che la comunità internazionale faccia quello che dovrebbe fare perché la Russia non dimentichiamo ha una base navale in Siria. Ora è chiaro che arrivare alla Russia la mattina o la sera e dire adesso dovete uscire e andarvene non è una cosa semplice non lo fa nessuno comunque è un paese grande ci piace o no e la Russia è la Russia cosa bisogna fare? Bisogna trovare una soluzione con la Russia trovare un'alternativa assicurarle che questa base continua e trovare un metodo la questione dell'opposizione siriana è un problema per i russi perché in qualche maniera funziona in occidente lavora in occidente ha sede nell'occidente e non ha collegamento con i russi è chiaro che si sentono stromessi ma stromessi gratuitamente non lo faranno mai non lo fa nessuno perché dovrebbero farlo i russi quindi bisogna trovare quelle soluzioni le comunità internazionali sono fatte apposta per risolvere problemi ma anche per crearli e tutte le dichiarazioni quotidiane noi non interveniamo noi lo sappiamo cosa vuol dire noi in Siria sappiamo questo cosa vuol dire purtroppo è una specie di garanzia per chi vuol desertare non deserta più noi siamo sicuri scusate un attimo noi siamo sicuri che se oggi ci fosse la possibilità che questi militari che desertano non vengono immediatamente uccisi sarebbero tantissimi molto di più dell'esercito fra virgolette chiamato regolare ma non sarebbe il caso anche per poter poter condurre un dialogo più coerente con la Russia e con gli altri c'è un problema di divisione di non di non di non di non unità dell'opposizione siriana allora io non posso non posso negare l'esistenza di una divisione nell'opposizione siriana però lei mi insegna ma in tutte le opposizioni c'è stata sempre in un paese una unica opposizione non è mai successo e sicuramente sull'obiettivi siamo tutti d'accordo di questo regime se ne deve andare adesso ci sono chiaramente differenze e non dimentichiamolo che la maggior parte dell'opposizione sta in occidente perché il regime nei 40 anni ha fatto sì che i siriani fuggono all'estero come persone e noi ci siamo trovati persone senza appartenenza politica per cui io mi incontro con lei perché vogliamo cambiare regime dopo che non abbiamo molte cose anzi non ci conoscevamo per niente ci vuole del tempo ma purtroppo il tempo non è a favore della popolazione siriana che tutti i giorni viene massacrata questo è il punto allora io sono d'accordo con chi ci dice unitevi perché sarete più forti ma questi le sanno i bambini della scuola elementare lo sappiamo anche noi ovviamente non ci sono queste condizioni così favorevoli per unire dalla mattina alla sera è chiaro che questo è un laboratorio ormai in cui si combinano le cose e vedremo cercheremo io sono di ritorno la settimana scorsa sono tornato del Cairo con il tentativo di unione o comunque coordinare le attività dell'opposizione non è facile non è facile proprio perché siamo delle persone non siamo organizzazioni era vietato io in casa mia io sono dell'opposizione e c'è mio fratello che è invece pro regime guardate che è una cosa di questa portata non è è un lavoro che è stato fatto studiato negli anni è perfettamente riuscito fino ad oggi per sopprimere e opprimere una popolazione e davvero quando io dico hanno fermato anche i nostri cervelli dico una verità mi dispiace mi dolora dire una coglione ma è così non siamo liberi né di pensare né di parlare tanto meno agire poi ma non è possibile voi forse non sapete che se per caso qualcuno dice o il vestito del presidente non è bello sei mesi senza processo e naturalmente senza avvocato e non si sa mai chi va in carcere quando torna e quando la popolazione ha richiesto solo riforme la fine è stata la cannonata e hanno preso i bambini torturandoli nella maniera in cui l'hanno torturato e qui è scoppiata la rivolta perché attenzione noi in Sire non volevamo fare una rivoluzione volevamo solo riforme riforme eventualmente riforme e quindi il dialogo solo che la popolazione chiedeva dignità e libertà e la risposta dello Stato è stata lo sparo questo è allora purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito ma continueremo sicuramente a parlare di Siria quindi grazie al professor Stefano Silvestri grazie a voi grazie a Faisal al-Mohamad grazie a voi grazie professore io mi sento onorato di stare finalmente vicino al professor Silvestri da una vita che io lo vedo solo in televisione o lo seguo magari dessento della sua opinione ma intanto questo è legittimo credo però sono davvero onorato grazie a lei vi ricordo alle 18 l'appuntamento con la trasmissione Agenda Italia Colline a Mondo arrivederci a domani grazie a tutti grazie a tutti